Ho cambiato un po' il segno di robo e ci ho detto che abbiamo niente. No dai, è bello, grandissima soddisfazione da parte di tutti. Farlo a Cesena è veramente qualcosa di incredibile, quindi siamo super orgogliosi, siamo felici, abbiamo tutte le emozioni possibili e immaginando. Quindi un grazie e un bravo a tutti. Manca solo quel famoso grado di testa, ci sono quattro giornali. Sì, però ci provo sempre, ma l'importante era vincere perché se lo meritavano tutti, tifosi, società, giocatori, staff, direttori, presidenti, veramente è stata la notte di tutti. Per dare una dimensione del gruppo, il mister ha appena detto, vedere Prestia migliorare alla sua età è un fattore. Quando hai dei giocatori a piano così è anche più semplice per me. Perché veramente ero dei uomini, prima che giocatori. E mentalmente è stata una stagione lunga, ma mentalmente abbiamo fatto un passo in avanti da su. Perché l'anno scorso tante partite simili, ma è già male. Quindi veramente è stata una vittoria soprattutto mentale. Ci sono stati veramente bravi e io e sto stanzetto qua. Infatti il mister ha detto, vedere Prestia e Silvestri migliorare ancora a una certetà dalla dimensione del gruppo. Ma non si finisce mai di imparare a qualsiasi tipo di età. Penso che è stata una delle lezioni più belle quest'anno calcistiche. E' un'avventura che ha avuto fortunatamente un lieto fine, ma per com'è iniziata e com'è andata durante siamo contenti. Cioè vincere a cinque giornate dalla fine è veramente una goduria pazzesca.